Frasi ricamate Questo sistema aiuta molto il negativo morale a renderlo ancora di più fruibile nello stabilizzare l'umore. Potrei se i sentimenti dall'anguore si riscaldassero ancora di più nel cuore e mente ritraendone da questo testo un'altra poetica fantasia con sottofondo musicale da me accostato. Puoi divertirti anche tu a maturare ricamare tutto ciò che scrivi elasticizzando la tua giovane saggezza tramite lo sguardo su un monitor di un semplice computer per visionare e correggere meglio il testo comunicato a me. Poi, da tua esperienza di vita sociale ricamare in meglio nella sua grammaticità nel renderlo pubblico soddisfatto e rimborsato Pietro Paolo Quarta la poeta Naif Santino Editore Pame Sigillo d'autore Coi di Alida Coi di Alida Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Poi, da tua esperienza di vita sociale, di chiamare il meglio nella sua chiamaticità, nel renderlo pubblico. Soddisfatto e rimborsato. Pietro Paolo Quarta, poeta Neif Santino, editore Pame, sigillo d'autore. Godialità.